Ciao a tutti, bentornati di nuovo nel mio canale nel video di oggi vediamo come cancellare tutti i file temporani presenti nel sistema operativo Windows 11 quindi andiamo qui nello start nella barra di ricerca scriviamo %temp% e diamo invio si aprirà il file manager che punterà alla cartella .temp dove possiamo andare a selezionare tutti i nostri file temporani e cancellarli il percorso ve lo lascio in descrizione ricordate che se volete accedere a questo percorso dovete abilitare il contenuto elementi nascosti del sistema altrimenti la cartella non sarà visibile in effetti se vado a defleggare questa opzione andiamo user tigerman app data non c'è quindi non potete raggiungerla quindi abilitate gli elementi nascosti vedete è comparsa la cartella app data local e sotto local c'è la cartella temp temporanea eccola qua se invece volete effettuare una una pulizia approfondita del sistema potete agire tramite l'app impostazioni quindi impostazioni archiviazione qui si aprirà la scheda tutte le schede praticamente catalogherà il sistema tutti i file in base alla loro origine quindi documenti app altro e ci sarà anche la scheda file temporanea andiamo qui il sistema farà un'analisi vedete ci sono 5 giga e 06 di windows app data quindi sono tutti gli aggiornamenti scaricati da windows non più scaricati e installati quindi non più necessari potete selezionare anche la cartella download il cestino gli elementi in quarantena sicuramente saranno questi e quindi potete procedere all'eliminazione è una pulizia un po' più diciamo efficace in effetti questo rimuove questo sistema qua di pulizia rimuove 5 giga e 46 la cartella dei file temporanei sicuramente è più piccolina come dimensione andiamo sul local temporane proprietà è di 116 megabyte dimensione sul disco 120 in effetti il sensore riporta a file temporanei 142 megabyte siamo giù di lì come dimensione siamo lì quindi potete procedere così a una pulizia approfondita io la la avvio quindi rimuovi i file continuo e la lascio lavorare così in maniera in background diciamo quindi avete due possibilità di svuotare subito i file temporanei agendo su quella cartella oppure potete usare l'app impostazioni ricordatevi di abilitare gli elementi nascosti all'interno della scheda visualizzazione altrimenti la cartella se volete navigare diciamo in maniera autonoma verso questo contenuto non sarà visibile perché la cartella app data è nascosta bene questo è quanto io vi saluto come sempre vi invito a mettere un bel like al mio video iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sugli ultimi video che pubblico ciao e alla prossima